Salve picciotti, sono Mario Rubino e mi occupo di nutrizione. In questo video vorrei darvi dei consigli un po' più pratici per ottenere quel tanto amato senso di sazietà. Perché spesso non riusciamo a raggiungerla, soprattutto se seguiamo una dieta per perdere grasso e che quindi richiede un deficit energetico. Ovviamente ci sono tante questioni ormonali, biologiche e psicologiche che entrano in gioco e possono essere più o meno prevalenti per ogni singolo individuo. Ma qui cercherò di darvi una visione generale e consigli pratici per ottenere una migliore sazietà da ogni singolo pasto. Quindi partiamo da questo studio. Il significato e il potenziale di ingredienti funzionali per il controllo dell'appetito e dell'assunzione di cibo. Il drammatico aumento dei livelli globali di obesità ha cresciuto l'interesse dei consumatori per la salute pubblica e commerciale, nei confronti degli alimenti che possono aiutare a controllare l'appetito e il peso. La percezione della sazietà consiste in eventi sensoriali, cognitivi, fisici e ormonali che seguono l'assunzione di cibo. Gli alimenti funzionali possono essere uno dei fattori più influenti nella riduzione dell'appetito, fintanto che ingredienti efficaci come fibre e proteine vengono utilizzati per progettare questi prodotti. Inoltre gli alimenti funzionali dovrebbero essere creati per ridurre l'appetito a diversi livelli, orale, gastrico e intestinale, attraverso vari meccanismi. Pertanto il potere di sazietà degli alimenti funzionali dipende dal tipo di ingredienti e dalla loro quantità. Poiché ogni composto ha un diverso meccanismo di azione, si andranno ad utilizzare ingredienti diversi per influenzare il senso di sazietà in maniera completa. Dallo studio si può concludere che le fibre solubili e fermentabili possono essere considerate il composto più efficiente in un prodotto funzionale per la riduzione dell'appetito. Poi vengono le proteine, che hanno la più alta capacità di indurre la secrezione di ormoni della sazietà, ma solo dopo l'assorbimento nell'intestino tenue. Quello però da tenere seriamente in considerazione è che nella prima mezz'ora appena si inizia il pasto sono le proprietà sensoriari dell'alimento, come l'odore, il gusto e la consistenza, i fattori predominanti che aumentano l'effetto di sazietà. Poi vengono le fibre, ma dopo circa un'ora, e durano molto. E infine le proteine, dopo circa due ore, creano il maggiore picco di percezione della sazietà. Quindi tirando le somme, primo viene la bontà e raggiunge il picco dopo circa 20-30 minuti e dura poco. Al secondo posto c'è la fibra, che arriva dopo circa un'ora e dura a lungo. E in terza posizione abbiamo le proteine, che arrivano per ultime, dopo circa due ore, però in modo molto pesante e duraturo. Quindi se i nostri pasti non ci saziano come dovrebbero, ovviamente escludendo DCA, cioè i disturbi del comportamento alimentare, forse dovremmo provare a fare dei pasti con un piatto unico, prediligendo queste fonti in ordine di importanza. Proteine, fibre, carboidrati e grassi. Rendo queste fonti da alimenti considerati sani, ma che rispecchiano solamente e sensibilmente i nostri personali gusti. Credo che questo sarebbe l'ideale per rendere più saziante il pasto in modo più completo, appagante e duraturo. Un piatto unico, gustoso, ma gustoso per me, non per te, o perché me lo dici tu, è progettato con intelligenza. Ad esempio, per me, una colazione con un porridge, fatto con albume e fiocchi di avena aromatizzati alla crema pasticcera, e delle fragole, sarà nettamente più saziante di un cornetto e cappuccino. Non solo per i nutrienti, ma perché quella aromatizzazione e abbinamento con le fragole mi fa sembrare di mangiare un pasticcino. Così come delle uova strapazzate, con del riso integrale, funghi e spezie, invece di una cipollina. Sicuramente il cornetto e la cipollina mi daranno un appagamento maestoso, ma momentaneo. E la voglia di cibo dopo 20 minuti sarà di nuovo prepotente e pesante. Ed anche in controtendenza vale la stessa cosa. Ad esempio, per me, un pranzo con del petto di pollo sfilacciato, mischiato a patate, avocado, sedano, lime, pomodori e spezie, sarà molto più saziante di un petto di pollo in padella, con dell'olio d'oliva e accompagnato con del riso basmati. O un pezzo di pane. Perché quel piatto creato da me, oltre a darmi più fibre e micronutrienti, mi ricorderà sensorialmente il guacamole. appagandomi così ad ogni boccone. Per ottenere quindi il massimo della sazietà bisogna essere più sensoriali, creativi e consapevoli della qualità e composizione degli alimenti. Ma neanche senza troppi sbattimenti. Basta essere curiosi sugli alimenti che ci piacciono di più, studiarli, facendo anche una veloce ricerca tra app, google, fuggino. E conoscendoli una volta per tutte, li conosceremo per sempre. Così da capire se ci stanno dando i giusti nutrienti che ci faranno sentire più sazi e felici. Oggi abbiamo a disposizione degli strumenti molto efficaci come app e internet. Quindi bisogna sfruttarli e spremerli a nostro vantaggio. E non per quello che ci dicono di fare, o che servono ad altri. Usiamo queste app, internet e le varie ricerche in maniera più personalizzata, per quello che ci serve realmente a noi. Altra cosa, e forse anche la più importante, è quella di avere una lenta e più goduriosa masticazione. Se ingurgitate come i dinosauri dopo un digiuno intermittente, aumenterete di molto la probabilità di non raggiungere la sazietà del breve termine. Un passo fatto in meno di 5 minuti è come non averlo fatto, se il tuo obiettivo è saziarti ed essere più appagato. Anche alti livelli di stress fanno danno in questo. Ti allontanano e ti distraggono dall'aspetto sensoriale del pasto. E quindi saranno solo le fibre e le proteine a salvarti. Forse. E questo avviene dopo circa un'ora, dopo che tu ti sei calato tutto il frigo. Quindi pensaci, prendi consapevolezza e mangia più lentamente. Sembrerà una cazzata, ma a volte questi piccoli dettagli fanno la differenza. Pensiamo alla pizza hawaiana con l'ananas e il pollo. Forse ha veramente un senso tutto questo. Io credo di sì, ma solo se soddisfa i tuoi strani gusti. Perché se è così, quella cacchio di pizza ti renderà sazio appagato e un po' emarginato. Però che cacchio te ne frega? L'importante è quello che succede a te e non agli altri. Quindi siate sempre curiosi, anche con il cibo. E più intelligenti nella scelta della vostra pizza preferita. Bene figliozzi pizzaioli, il video termina qui. E come sempre vi ordino di iscrivervi al canale e seguitemi anche su Instagram e Facebook, dove pubblico spesso diversi studi scientifici. In descrizione trovate tutti i miei contatti. Grazie davvero per il vostro supporto. Un abbraccio e pura vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.